La mattina mi sveglio contenta di venire in Accademia, in particolare perché so che mi formeranno come una professionista completa, non solo nelle tecniche di effetti speciali, ma anche in tutto ciò che sta dietro, cosmetologia, storia del costume. Ho deciso di frequentare questo corso perché sono sempre stata appassionata di cinema e di teatro fin da quando ero piccolina, ho sempre frequentato il mondo del teatro, diciamo come attrice anche e come spettatrice e quindi ho sempre trovato molto affascinante l'aspetto della trasformazione in qualcosa che non è reale, in un personaggio e questo corso fa proprio per me. Trovo più appassionante tutto il processo che porta alla costruzione della protesi, dall'inizio, dalla scultura fino allo stampo e poi alla collatura del materiale. Nel futuro mi vedo magari, spero, nel mondo del cinema, magari anche all'estero, non dico che sogniamo l'Oscar, però potrebbe essere anche un'idea.